Musica e poi dobbiamo fare il recupero dal fondo abbiamo ancora spazio per tre vetture anche lui che è dell'alto sullo stavo di miglio lo stavo di miglio, 200 metri vedete come è buono il vento mi spazio i gabie mi spazio i gabie vediamo se è riuscita a fare il tasto di oro questo spalo, il primo spalo che lo stavo di miglio questa è l'ultima, ma vediamo ancora una ce ne è anche una ok 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 per il rapporto di allineamento, ventura, spazio, motocellula, primo sparo, venendo con molla, hai sentito, Rakting Danny Powersport, allineamento millimetrico, per il numero 111, andiamo a vedere cosa realizza il Delta 76 ai 155, buona la popola, questo è una delle rivelazioni, attenzione a queste vetture, impressionante, Andrea Premi, primo approccio, sono arrivati da Garlasco, con il Mitsubishi Lassi, incredibile, 7 secco, 7 secco, ha fatto il vinto, e adesso continua la sfida con il numero 601, Federico trovò 911, Porsche, 4 ruote motrici, vettura integrale, no alcol, no zotto, no volumetrico, solo benzina verde, per il numero 601, con la griglia forata, vediamo se batte il Mitsubishi, 7 secco, ho fatto la Mitsubishi, il Porsche realizza, 7 e 4, con un bel 500, un'altra vetturona di quello da spettacolo, numero 507, ha martellato fin dalle prove, Federico Mandela, con il suo V8, Mastercar.it, tutta la squadra è spiegata, adesso il Ravino pronto a indicare per la ritrovarcia, qua non ci sono gli specchietti, guardate il contone posteriore, due due bombine davanti, guardate come è caricata, non ci sta, rimette in gioco, la performance della sua vettura, preparatevi a mettervi le dita sulle orecchie, da questa Mascol Car, Enrico Candela, e questa è una delle vetture più spigliose, Pizzo Custom, ascoltando, andiamo a vedere cosa ha fatto Candela, 7 e 4, 7 e 4, velocità di uscita, 154 di uscito. Cristo Custom, garanzo, attenzione, siamo entri nella categoria Super Gas, vettura che arriva dal canton Ticino, con Cristian Piffaretti, quella sua, Osmobile. avrete notato il suo bel paracadute, anche qua si prepara per l'allenamento millimetrico, abbiamo questo fantastico personaggio che ha sbagliato la misura dei jeans, qualche numero che ha avuto? 6 e 6 bravo! bravo Cristian, 6 a 6, buono, entriamo nelle categorie spettacolo, il numero 505 Andrea Villus, laura, solo, è un pelota della MP America Motofilia, lui ha fatto il suo record personale, 9.3 su un quarto di miglio, per questo è Camaro 1967, stiamo parlando di 800-900 cavalli sotto il cofano, Andrea Villi, ben presente, ben stampato, l'adesivo MP American Motor Pavia, che non hanno tutti eh, con Andrea Villi, sentilo, arriva nella sala a prendere il caffè, 6 e 2